Buongiorno Voglio Ma da ricordi qua teniamo un'altra quella che ho detto anzi quella che ho detto no no ti volevo inviare una piccola cosa perchè ho promesso di nuovo e di nuovo ti dice comanda no comunque ti aspetto qui a Valenzia presto e un bacio grande guardate voi di te forza